La nostra idea è un quadro in tre dimensioni, è capitata, è un'idea capitata, ci piace molto, sono tutti materiali di riuso, quindi sono tutti pezzi di vecchie porte, ante di cucina e la parte sopra è un mdf, anche questo ricavato da disfacimenti di negozi, piuttosto che tagliato a mano e dipinto a mano, ogni pezzo praticamente è un pezzo unico, proprio perché facendolo completamente a mano si ha anche una certa selezione. Come mai avete scelto Paperino, i fumetti? I fumetti sono anche questi capitati per caso, diciamo che noi avevamo come personaggio del cuore Snoopy e poi è stato sovrastato da Spider-Man, da Disney, da qualsiasi fumetto e quindi seguiamo proprio gli eventi fumetto. Complimenti. Grazie.